Il sito che tutti potranno consultare sul sito della regione toscana dove si dà informazioni in specifico dei progetti che stanno andando avanti. Questo ci consentirà ogni giorno a ogni cittadino, a ogni operatore di poter andare a vedere sul sito quello che è lo stato dell'arte rispetto ai progetti che sono stati ben incanalati e progressivamente come queste risorse poi consentono di tradursi in realizzazione.